ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi vi farò conoscere questi due prodotti della astro si tratta di un multimetro e di una pinza amperometrica che ha pensato un po funziona anche sulla corrente continua solitamente quelli che ho provato funzionano solo su corrente alternata astro ai ai sta per intelligenza artificiale ed effettivamente sono due multimetri che funzionano in modo automatico hanno anche la funzione no contact insomma sono davvero molto interessanti vi lascerò il link nel primo commento nella descrizione se dopo aver visto il video pensate che possono piacervi e volete comprarli dove potete trovare appunto anche dei codici di sconto per poter risparmiare qualcosina i prezzi in questo momento non ricordo ma vi lascerò delle schermate qua a fianco con il sito internet nel quale si vede il prezzo di vendita adesso facciamo un unboxing vediamo come funzionano qual è la loro precisione e le varie funzioni che ci offrono iniziamo e allora apriamo quindi le confezioni quindi questo è il contenuto nelle due confezioni per quanto riguarda la pinza amperometrica troppo troviamo anche una borsettina per il trasporto invece il multimetro è contenuto direttamente all'interno della scatola entrambi sono accompagnati da manuale di istruzioni il multimetro anche in dotazione questa sonda che ci permette anche di rilevare le temperature adesso lo vedremo allora partiamo proprio da questo multimetro questo tester come vedete è automatico perché ci dà la possibilità tramite questa ghiera di scegliere le varie funzioni ma non ci richiede di impostare alcun valore quindi né fondo scala né altro tra l'altro ci sono i connettori che ci vengono indicati da dei led quindi guardate quanto è interessante rimuoviamo direttamente i connettori sia quello nero che quello rosso scegliamo di misurare per esempio la tensione in questo caso lampeggeranno questi due led che ci indicano che il connettore rosso va indica va inserito in questa porta e quello nero invece in quest'altra porta e man mano che ruoteremo il selettore quindi cambiando funzioni quando verrà richiesta la sostituzione quindi il cambio del posizionamento dei connettori verrà indicato sempre cambiando posizione di lampeggio guardate andando avanti ci chiede di cambiare posizione dei connettori molto facile anche per chi non ha dimestichezza perché non c'è il rischio di sbagliare in questo caso per esempio non ci viene indicato nulla perché questa è la funzione senza contatto si utilizza direttamente questa parte anche in questo caso non viene richiesta l'impostazione di alcun valore nessun fondo scala quindi dopo averli visti così rapidamente faccio vedere anche le funzioni quindi il led e alcune caratteristiche allora questo ha la possibilità di aprire la parte posteriore che ci dà accesso anche al vano batteria e questa parte di colore rosso si può rimuovere perché in realtà è una sorta di cover che lo protegge da eventuali urti o cadute quindi possiamo utilizzarlo anche in questo modo avere le mani libere e riusciamo a vedere comunque quello che ci presenta il display che altrimenti in quest'altra posizione in base a come siamo messi potremmo avere difficoltà a leggere nella parte posteriore possibile inserire i due puntali quindi posizionati in questo modo oppure sotto sopra possiamo sia appenderlo sfruttando questo foro ad una vite oppure ad un chiodo oppure possiamo metterlo all'interno di una valigetta perché occuperà meno spazio avremo sempre tutto a portata di mano quindi l'accendo di nuovo e vi faccio vedere che con questo tastino possiamo accendere il display in caso di scarsa luminosità riusciamo comunque a leggere quello che viene riportato sul display e mantenendolo premuto abbiamo la possibilità di accendere anche questo led nella parte posteriore che effettivamente emette una buona luce questo è il sensore per l'utilizzo senza contatto che proveremo fra poco e il tasto funzione ci permette di passare per esempio in questa condizione da corrente continua a corrente alternata infatti cambia il tipo di onda per ogni tipo di funzionamento ci dà la possibilità di variare funzione riusciamo a utilizzarlo in uno o nell'altro modo in base alle indicazioni presenti anche sulla ghiera diamo un'occhiata quindi anche a quest'altro quindi riaccendiamolo e anche in questo caso abbiamo la possibilità di illuminare il display premendolo una volta oppure di accendere il led mantenendolo premuto l'unica nota negativa se così vogliamo chiamarle il fatto che comunque questa parte frontale sia in corrispondenza del led quindi riusciremo in questo modo da avere una luminosità un pochettino più diffusa anche in questo caso il tasto funzioni ci permette di passare da corrente continua forrente alternata e da questa parte abbiamo il tastino per memorizzare la lettura nel caso in cui c'è una lettura che vogliamo bloccare sullo schermo basterà premere questo tastino per il modo da poterla avere evidenziata e poi poterla segnare per esempio su un foglio di carta la stessa cosa da questa parte ma con il tastino hold quindi guardiamo direttamente la loro precisione prende una batteria già ho verificato che questi due tester corrispondono perfettamente ad un tester semiprofessionale quindi prendiamo una batteria e facciamo subito una lettura voglio farvi vedere però un particolare questi puntali hanno un tipo di protezione 3 oppure protezione 2 che cambia semplicemente rimuovendo questo cappuccio allora utilizziamo questo tester per la prima lettura della tensione di residua di questa batteria abbiamo 17 e 49 quindi 17 e mezzo proviamo quindi l'altro e dovrebbero essere super giù allineati e su questo abbiamo 17 51 quindi praticamente identici cambia pochissimo diciamo che sono molto affidabili su molti tester anche della stessa marca dello stesso modello qualche piccolo punto percentuale come differenza insomma diciamo del tutto tollerabile soprattutto su questa fascia di prezzo quindi adesso passiamo di nuovo a questo e voglio farvi vedere come utilizzo la pinza amperometrica anche con la corrente continua quindi ho accrocato un collegamento tra una batteria per questo avvitatore vediamo quindi come si comporta questa pinza amperometrica la zeriamo ovviamente tutto in corrente continua quindi inserisco i fili all'interno della pinza avvio l'avvitatore ed è la prima volta che io utilizzo una pinza amperometrica con la corrente continua di solito ho provato solo quelle per la corrente alternata quindi anche questo funziona e sembra che funzioni molto bene ora facciamo una prova utilizzandola sempre con una pinza amperometrica ma con la corrente alternata scegliamo innanzitutto tramite il tasto funzione il passaggio la corrente continua corrente alternata mettiamolo qua in uno dei due cavi e accendiamo questa pistolina per aeree calda ok abbiamo una lettura che attorno a 1 e 35 quindi la pistolina è da 350 watt dichiarati diciamo su per giù ci siamo ovviamente se io prendessi entrambi i cavi non avrei alcuna lettura vanno presi uno per volta uno o l'altro non cambia nulla ma questo non è un tutorial quindi è semplicemente una recensione per vedere quanto siano affidabili questi dispositivi e che abbiamo questi cavi per la corrente alternata proviamo anche la funzione no contact quindi possiamo passare direttamente da no contact alla funzione di live quindi per trovare un tipo cerca fase però in questo caso va utilizzato direttamente senza cavi e se noi proviamo ad avvicinarlo da questa parte avremo comunque la lettura del passaggio di tensione ma ci viene indicato in modalità bassa con la l se invece andiamo a questa parte la modalità h quindi la modalità alta più questo bip in modo insistente e tutti e tre i led accesi quindi guardate che differenza riusciamo a trovare qual è il cavo in cui effettivamente passa la fase è un cerca fase senza contatto perfetto comodo proviamo questa funzione anche con quest'altro dispositivo quindi andiamo nell'ultima funzione no contact ci avviciniamo da questa parte non abbiamo nulla ci avviciniamo da questa parte invece e abbiamo il nostro segnale di avviso proviamo con i cavi vicini ok ok quindi affidabile anche con i cavi che siano molto vicini questi sono poggiati fra di loro solo se io tocco il cavo effettivamente in cui c'è la fase allora me lo indica anche questa che riesce a indicarci con precisione quale sia il cavo perfetto e ora sempre utilizzando questo voglio fare un'altra prova perché questo ha la funzione del led che ci indica quale connettore utilizzare quindi siamo sempre in modalità no contact ma se noi premiamo il tasto funzione passa modalità live quindi ci serve per utilizzarlo con il contatto ma tramite il nostro spinotto quindi ci indica che dobbiamo collegare il nostro connettore in questo che lampeggia quindi inserendolo all'interno di questa presa riuscirei a trovare come se fosse un cerca fase qual è ecco come vedete lampeggia mi raccomando non fate mai queste cose se non sapete quello che state facendo invece da quest'altra parte non indica nulla quindi funziona e funziona bene anche in questo modo questa è la fase ovviamente sono ricchi di funzioni quindi non potremmo testare le tutte vi farò vedere però per esempio il test della continuità facciamo la prova unendo i due puntali e metterà un bip vediamo quanto sia veloce nella risposta ragazzi è praticamente immediato perfetto quindi oltre ad emettere questo bip nel caso in cui si stia lavorando in ambienti rumorosi abbiamo la possibilità di questo led che si accende e che quindi ci avvisa che il circuito si è chiuso e quindi c'è continuità facciamo la prova anche su quest'altro e vediamo questo quanto sia veloce perfetto velocissimo anche in questo caso si accende il led di colore verde sulla parte bassa però non è immediato come l'emissione del bip sia per l'uno che per l'altro ovviamente il bip lo sentiamo immediatamente il led invece si accende un secondo dopo ovviamente dai link potrete vedere tutte le altre funzioni perché possono essere utilizzati per restare eventuali dio di led resistenze eccetera vi vi faccio vedere ovviamente le funzioni principali per vedere la qualità l'ho detto già più di una volta però è giusto se uno guarda la recensione di un multimetro spera che vengano provate tutte le funzioni in realtà non è così perché provare tutte le funzioni per entrambi i dispositivi sarebbe praticamente impossibile quindi facciamo una prova però con questo misuratore questa sonda che ci dà la possibilità di vedere la temperatura quindi rimuoviamo i due connettori mettiamo la modalità temperatura e lampeggiano questi due led che ci stanno ad indicare il posizionamento quindi dobbiamo inserire seguendo il disegno presente sullo spinotto questo corrisponde alla porta com questo invece va messo nello spinotto di colore rosso e adesso avremo la possibilità di misurare la temperatura solo che la temperatura in gradi centigradi è riportata piccolino qua in alto e queste invece sono i gradi fahrenheit e allora facciamo la prova con questa lampada vi ricorderete che tempo ha fatto già un test utilizzando anche la telecamera termica e nella parte più alta ci indica sempre una temperatura che oscilla fra 40 45 in alcuni punti 50 gradi nella zona centrale mi ricordo che era super giù attorno a 45 gradi a occhi e croce comunque guardiamo spostandoci da questa parte abbiamo 35 gradi 38 40 42 gradi si è stabilizzato da questa parte ne abbiamo scusate ma stavo toccando la parte adesiva da questa parte 44 gradi 45 si va oscillando in base al punto anche con la telecamera termica cambiava di 1 2 gradi quindi ci siamo rispetta perfettamente alla temperatura come vedete riportata qua in alto come veniva riportato esattamente dalla telecamera termica e allora ragazzi quindi la pinza amperometrica che funziona anche con la corrente continua e questo multimetro che ci indica come utilizzarlo segnalandoci la posizione dei connettori secondo me sono due multimetri affidabile funzionano come cerca fase sia con che senza contatto vi lascerò il link se prodotti vi sono piaciuti scusatemi se non ho fatto tutte le prove ma questo avrebbe richiesto un video vero infinito tra l'altro sono due quindi avrei dovuto ripetere le prove per entrambi ho fatto quelle che ritengo più importanti per capire quale sia il funzionamento anche le caratteristiche tecniche lasciandovi link troverete tutte le varie schede tecniche dove andare a leggere tutte le varie potenze massime minime eccetera non mi rimane quindi che ringraziarvi di avere visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi nel mio canale mettere mi piace qua giù cliccando sul pollicione all'insù cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto